L'occasione la offre Expo 2015, ma per la città di Crema è arrivato il momento di farsi conoscere in tutta la sua bellezza e nella capacità di accoglienza turistica. Pronti i pacchetti da promuovere in vista di Expo 2015, ma che mirano ad attrarre visitatori anche prima e dopo l'evento. Crema si presenta nella sua nuova veste turistica e mette in vendita quattro pacchetti che valorizzano e fanno sperimentare alcuni aspetti particolari della sua realtà. Si va dall'esperienza del gusto pacchetto giallo, che vuole far conoscere e gustare le prelibatezze territoriali, al percorso rivolto all'arte e all'architettura, pacchetto azzurro, con visita ai palazzi storici, chiese e musei. Il terzo pacchetto rosa punta sulla musica e al teatro e sulla proposta culturale del San Domenico e dell'Istituto Folcioni. L'ultimo percorso, quello verde, mette al centro la natura e lo sport, con percorsi sportivi e ciclabili immersi nel verde del Parco del Serio e della Campagna Cremasca. I quattro percorsi si suddividono a loro volta in due tipi di offerte, quella più economica e quella più lussuosa, che prevede ad esempio per notti non in semplici alberghi, ma in ville e dimore storiche. Ciascuna offerta comprende quattro possibilità, il pacchetto 1 che va da un minimo di due giorni e una notte, al pacchetto 4 che va da un massimo di sei giorni e cinque notti. I prezzi possono pertanto variare da un minimo di 75 euro a un massimo di 300 euro. Bisogna proprio far capire al turista che qui da noi può arrivare, essere molto vicino a Milano, può aver visitato Expo, ma vivere nella tranquillità di crema, avere diverse offerte che offre appunto la nostra cittadina, però viverle con grande tranquillità e con grande emozione perché tutti gli operatori del settore si sono resi molto disponibili a far proprio visitare le loro strutture. Parola d'ordine per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi pacchetti, da ristoratori alle agenzie di viaggio agli albergatori, è far emozionare il visitatore, coccolarlo in modo che ritorni o faccia pubblicità. Un'accoglienza turistica capace, per la prima volta, di fare sistema. A crema sul turismo non è mai stato fatto granché, ci sono tante piccole cose che grazie alla buona volontà e alla vivacità di tante associazioni si è cercato di fare. Questa è la prima davvero forte e originale occasione in cui abbiamo cercato di mettere insieme tanti, tutti, partendo da chi opera nel settore perché bisogna sempre partire da chi conosce e ha le mani, diciamo così, in pasta quotidianamente.